Musica Ciao gentaglia, sono ShotaHatesU, questo è Breaking Italy, spero abbiate passato un buon giovedì Ecco ecco, eccovi 15 euro, sono 5 euro in realtà, 5 euro, però potete comprarvi il gelato, voi no? Prima devi ascoltare quello che ho da dirti e poi alla fine potrai andare a comprarvi il gelato, ad ottobre Lo compri per l'anno prossimo La prima cosa che volevo fare oggi è mandarvi a pompare un po' visualizzazioni e ricavi di Mediaset che poraci ne hanno bisogno Visto che le Iene hanno realizzato un'intervista che ritengo sia interessante alla ragazza Oh ragazzina, visto che io ho parlato di una quattordicenne quando vi ho esposto la notizia, invece si tratta di una tredicenne Questa tredicenne, che è poi la ragazza di Twitter che è stata insultata da Gasparri Che le diceva di smettere di drogarsi e mettersi a dieta L'intervista è interessante su tutti gli aspetti, innanzitutto perché è carino vedere che la ragazza è timida durante l'intervista E' imbarazzata, quindi ogni tanto incespica mentre parla, però dice comunque delle cose intelligenti Che sono poi quelle che più o meno siamo detti noi qualche breaking di tali fa Se Gasparri, sei il vicepresidente del senato, non puoi andare in giro ad insultare la gente dicendo di essere stato insultato prima E' semplicemente il fatto che questa politica è specchio della società La quale sembra assolutamente normale fare questo tipo di cose Se la politica non dà l'esempio, non dice a chiare lettere questa roba è sbagliata Non si fa, ma dice qualche volta lo si fa, ad esempio se ti prendono in giro i bambini tu li prendi in giro Perché che le persone se ne accorgano o non se ne accorgano, sei un modello in quanto istituzione E' stato intervistato anche il noto giornalista Giuliano Ferrara che del fatto di essere sovrappeso ne ha fatto una carriera praticamente Anche su Twitter si chiama Ferrara il Grasso E questo servizio oggi è rimbalzato un po' sui social Principalmente perché è interessante vedere le reazioni delle persone a questo servizio Perché se da una parte veniva condannato l'atteggiamento di Gasparri Che di nuovo non può permettersi di fare questo tipo di cose D'altra parte sembrava sdoganasse l'obesità dicendo Hey, non è veramente un problema E come al solito la verità sta nel mezzo Perché se nessuno di noi può permettersi di andare da qualcuno e dirgli sei diversa da me Ti prendo in giro, sono violento verbalmente nei tuoi confronti Felisco i tuoi sentimenti, ti metto le mani addosso perché sei grasso L'abbiamo visto succedere a Napoli E' certo anche importante ricordare che l'obesità è un problema fisico Non è semplicemente un problema estetico E' anche un problema di salute E quindi non va perseguita Ma tutto questo ritrova il fatto che non è con l'umiliazione E con il prendere in giro gli altri e col dire Mi fai schifo Che migliori le vite degli altri Perché non devi veramente migliorare le vite degli altri Nessuno te lo ha chiesto Il punto sta sempre nel fatto che Chi è sicuro e forte nelle proprie posizioni Non ha bisogno di insultare qualcuno Per il suo aspetto fisico E non ha bisogno, se compie questo primo errore Di fare poi il secondo e dire Ma lo faccio per la tua salute Lo fai se te lo chiedo Se non te lo chiedo Sparati in un piede Grazie, arrivederci Sipario Parlando peraltro di cose che attengono in un certo senso Al campo visivo e dell'aspetto Tette Precisamente le tette di questa ragazza Che non sono abbastanza grandi Quella che state guardando È una giovane cosplayer E sinceramente tremo all'idea Di affrontare il discorso cosplay Perché è un mondo che in un certo senso Mi fa paura Perché il cosplay è figo Piace a tutti In alcuni casi si sta trasformando In una sorta di lavoro da modelle Per alcune persone soltanto E io mi rapporto ai cosplay Esattamente come mi rapporto a qualsiasi cosa Sia esteticamente interessante O interessante a prescindere Ma non mi interessa di fondo Quindi la guardo e dico E finisce tutto lì Quindi butto il microfono E non voglio saperne niente Di tutti i casini Che ci sono attorno Alla community Se non fosse che Parliamo di questa ragazza Proprio perché questa community Del cosplay internazionale O qualche bolla All'interno della community Non ne so così tanto E comunque Continuo a mostrarvi delle foto Per farvi vedere che questa ragazza Non è brutta Anzi È Attraente Scientificamente parlando Si è scagliata contro la giovane Karen Sakai Rea di aver creato una campagna Su un sito che funziona come Kickstarter O come Indiegogo Serve a raccogliere dei soldi Per arrivare ad un obiettivo Appunto per raggiungere l'obiettivo Di rifarsi le tette La ragazza infatti dice di avere soltanto una C Che non so esattamente quanto sia Magari qualche ragazza della gentaglia Può farcelo sapere Non ci ho mai capito niente Io di come funzionano le taglie di reggiseni Americane, europee È molto complesso Ma lei vuole le tettone Peraltro avrebbe già in passato Ricorso alla chirurgia plastica Che in realtà non mi interessa affatto Anche perché io non sono poi contro la chirurgia plastica Non ci vedo questo stigma incredibile Però sono posizioni Alcuni sono pro Alcuni sono contro Alcuni sono contro Sinché poi non passa il tempo Diventano pro Ma il punto interessante è che Molti portano avanti E che i 4300 dollari Che la ragazza richiede Per fare questo intervento Per ingigantirsi le tette Non dovrebbero essere coperti Da donazioni di estranei Ma dovrebbero essere coperti Dalle tasche della ragazza Il che peraltro ci riporta Ad altre polemiche Merito al fatto che apparentemente Molti cosplayer molto noti Perché poi questa ragazza Non è molto nota Facciano delle campagne simili Ma non per le tette Ma per i costumi Perché poi costruire Un costume ben fatto Costa molto E se in passato E anche adesso Molti cosplayer Pagavano i tasca loro Spesso si vedono delle campagne A te a finanziare questa roba qui Quindi tu dai dei soldi Questa persona si fa il costume E tu la guardi e dici Yeeee Ti sei fatto il costume Ho le tette Però d'altra parte Ognuno può fare quello che vuole Con i propri soldi E la ragazza ha già raggiunto 1500 dollari In donazioni Da 23 persone Mentre parlo Che gli hanno donato il cacin Quindi anche io Ecco c'ho di nuovo questi 5 euro Che ho in tasca In realtà dovrei metterli in benzina Però che mi frega Posso benissimo andare a piedi E Donarli Per le tette di questa persona Che poi non potrò guardare Perché la mia ragazza sicuramente non vuole Quindi Le guarderò di nascosto E dirò 5 euro Miei All'interno Parlando di cose più serie Il Messico è ancora un posto spaventoso Però davvero spaventoso Dove accadono cose strane Vi ricorderete infatti Che settimane fa Avevamo parlato di Una grande Fossa comune Tendenzialmente Un buco Del quale erano stati ritrovati 30 cadaveri Che si pensava Fossero parte di un gruppo Di studenti scomparsi Dopo una manifestazione Antigovernativa Questi studenti hanno detto Yeee Manifestiamo Come accade in tutto il mondo Si arrestavano nella città di Iguala Contro la grande corruzione Che è imperversa In Messico Che spesso si traduce In rapporto Tra la politica E il mondo del crimine organizzato Va a capire Succedono anche queste cose Non l'avremmo mai detto Problema Questi ragazzi ad un certo punto Vengono arrestati Che di nuovo Non sarebbe così tanto un problema Accade anche qui Se non fosse che poi Scompaiono Infatti non si sa Dove questi ragazzi Siano finiti Visto che i corpi Nel buco Sono stati analizzati Con il test del DNA E ci si accorti Il che è Dei quei ragazzi spariti Nessuno era finito nel buco Il che significa Due cose Uno Tuttora in Messico ci sono 43 studenti scomparsi E l'ultima volta che sono stati visti Sono stati visti Entrare in una macchina Della polizia Quindi WTF Numero uno E due Hey gente del Messico Ci sono 28 corpi Che ok Non sono quei ragazzi Ma chi sono? Cioè cosa significa? Non sappiamo chi siano Cosa significa? Non sappiamo chi siano Scompaiono 28 persone E nessuno Se ne accorge Comunque alla fine della fiera Il capo della polizia locale Il sindaco della città E la moglie Sono ora ricercati Dopo essere scomparsi Ovviamente Perché sono accusati Di aver fatto scomparire Questo gruppo di persone O di avere parte Nella sparizione Di questo gruppo di persone E di avere dei legami Con la criminalità locale Precisamente Con la gang Dei Guerreros Unidos Perché lì le gang Hanno dei nomi fantastici Anche se rimane comunque Che sono delle persone di merda Questo comunque Continuiamo a metterlo sul tavolo Giusto per? Vediamo di riassumere Cosa è accaduto ieri sera Qui ad Ottawa Alla capitale federale del Canada Dopo che un uomo Armato con un fucile Ha sparato a un soldato Davanti al National War Memorial Il soldato stava lì Con l'arma scarica Era semplicemente Di guardia Al monumento Parliamo di una persona giovanissima Questo ragazzo qui Che si chiamava Nathan Cirillo E aveva 24 anni E appunto quest'uomo Che è stato poi identificato Ha aperto il fuoco Verso di lui L'ha ucciso Poi è salito su una macchina Ed è andato in Parlamento Ma ovviamente Nel Parlamento C'erano molte più persone Molti più agenti Come potete vedere Da questo video Che gli hanno dato la caccia È nata una sparatoria E l'uomo è morto E ad ucciderlo La stampa sta dando molta attenzione A questa cosa Per una ragione o per l'altra La stanno chiamando Quest'uomo eroe Visto che Ad abbattere questo squilibrato È stato un uomo Di 58 anni Che non è nemmeno in realtà Un poliziotto Ma è una specie di commesso Del Parlamento Responsabile della sicurezza In aula Quindi non era un militare Era semplicemente un uomo Che quando ha saputo Che c'era un pericolo All'interno del Parlamento È andato nel suo studio Ha preso la pistola È andato a difendere le istituzioni E per questo Adesso la parola eroe È sulle bocche di molti Quindi l'ultima domanda Rimane Chi ha sparato È stato in teoria Visto che mentre parlo Non è nemmeno sicuro al 100% Direi all'85% Visto che ormai Circolano le foto Circola il nome Il tizio sarebbe questo qui Michel Zehaaf Bibou O qualcosa del genere Ragazzi il francese Non è esattamente il mio forte 32enne E la cosa di cui Tutti avevano paura Si è verificata Ovvero che il tizio Non fosse semplicemente Uno squilibrato Perché lo era Ma uno squilibrato Legato in un certo senso Alla jihad O allo jihad Se si vuole essere precisi Visto che a quanto leggo Ultimamente Jihad è maschile Dello stato islamico L'uomo infatti Voleva addirittura O era nelle sue intenzioni Apparentemente Partire per la Siria Per unirsi All'ISIS Ma gli era stato revocato Il passaporto Perché si aveva paura Che facesse questo tipo di cosa Visto che l'uomo era conosciuto Non solo per le sue visioni Di musulmano estremo Cosa peraltro interessante Visto che si era convertito Da poco Ma per il fatto che avesse Già dei precedenti Per rapina e possesso di droga Molti di voi potrebbero obiettare Vabbè che differenza fa Che fosse un terrorista O non fosse un terrorista C'è una lieve differenza Non in quello che è accaduto Ovviamente perché il giovane militare Rimane un giovane militare Morto a 23 anni Ma nel mondo in cui media E quindi l'opinione pubblica Il mondo reagirà A questo tipo di cosa Perché poi Questo è esattamente L'obiettivo del terrorismo Causare terrore Avere un impatto sugli altri Fare in modo che se ne parli E peraltro Una tecnica nota da sempre Perché funziona Mettere paura agli altri Funziona E quindi cosa Il mondo è ancora un posto di merda Cercate di essere gentili Gli uni con gli altri Perché questo fa Un'enorme differenza Poi in larga scala Ma questa gentaglia è tutto quello che avevo da dirvi per oggi Grazie per aver guardato Mi viene da ridere perché ho appena visto questa foto Che sto per mostrarvi Ragazzi voi non avete idea poi di cosa accade Se fate gli spiritosi con l'occhio degli illuminati eccetera Non avete idea Comunque leggo velocemente i vostri nomi Siete simpaticissimi Agnese, Alessandra, Carlo, Jacopo e Leonardo Tutti 3, 14 e 15 anni Tutti di Perugia Grazie per aver messo il mio logo dentro l'occhio Dentro la piramide E ne approfitto per dire che no Non sono un massone No, non appartengo a un culto di qualsiasi tipo Visto che essendo ateo Non credo in nulla Quindi Lo faccio per evitarmi tutte le mail Che mi diranno Oh mio dio ma metti delle cose No 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 Non credo in nulla Non credo in nulla Non credo in nulla Non credo in nulla Non credo in nulla